buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi edizione speciale sulle gps sull'aggiornamento delle gradatorie per le supplenze per il biegno scolastico 24 25 e 25 26 andiamo subito alla prima domanda come devo indicare nella domanda per l'aggiornamento in gps 24 26 i servizi prestati sulle classi di concorso oggetti di accorpamento ai sensi del decreto ministeriale 255 del dicembre 2023 allora i codici alfanumerici previsti dal dpr 19 del 2016 sono stati mantenuti distinti per le classi oggetto di accorpamento tanto per fare un esempio la 01 e arte immagine sarà distinta dalla a 17 disegno e storia dell'arte per la scuola secondaria di secondo grado oppure la a 0 12 italiano e storia per la scuola secondaria secondo grado sarà distinta e separata dalla 0 22 classe di concorso per l'italiano la storia della geografia per la scuola secondaria ma di primo grado la 0 48 la 0 49 scienze motore alla scuola secondaria di secondo grado sarà distinta da quella della secondaria di secondo grado per cui le classi di concorso oggetto di accorpamento rimarranno con codici di classe di concorso separati e distinti pertanto la classe di concorso del servizio da dichiarare dovrà riportare il codice relativo alla classe di concorso in cui è stato prestato il servizio in modo che sia un servizio specifico esattamente come sempre accaduto nei biegni passati tale servizio a norma dell'articolo 15 comma 1 secondo capoverso dell'ordinanza ministeriale numero 88 del 16 maggio 2024 continuerà ad essere valutato distintamente sulle classi di concorso accorpate anche per gli anni scolastici 22 23 e 23 24 questo significa che se io ho fatto servizio nella 01 prenderò 12 punti e per un anno intero chiaramente chiaramente prenderò punteggio intero cioè 12 punti per la 01 come specifico e andrò ad avere come a specifico nella 17 solo la metà del punteggio cioè sei punti perché servizio a specifico andiamo alla domanda numero 2 sono in possesso di abilitazione per la classe di concorso a 01 posso in applicazione appunto del decreto ministeriale 255 del 22 dicembre 2023 utilizzarla per inserirmi e anche nella gradatoria prima fascia gps della classe concorso a 17 ovvero sia l'abilitazione per la 01 mi vale anche per inserirmi essere abilitato nella 17 visto che c'è un accorpamento delle due classi concorso allora sì sicuramente sì anche se le classi concorso ripeto rimangono separate e distinte pur essendo stati mantenuti quindi distinti i codici alfanumerici delle classi di concorso oggetto di accorpamento il possesso dell'abilitazione per una delle classi concorso accorpate costituisce abilitazione anche per l'altra classe di concorso accorpata per cui si va si termina in prima fascia e che il titolo di accesso viene valutato sia per una classe di concorso sia per l'altra in maniera identica e dunque in prima fascia in tutte e due le gradatorie terza e ultima domanda sono iscritto nelle gradatorie esaurimento a pieno titolo per una determinata classe di concorso per la stessa classe concorso posso iscrivermi anche nelle gps allora l'iscrizione è consentita purché sia una provincia diversa cioè se mi iscrivo nelle gps di una provincia diversa da cui sono inserito nelle gae posso inserirmi in prima fascia anche per nella gps però deve essere appunto una provincia diversa rispetto a quella di inserimento delle gae se invece l'iscrizione è nella stessa provincia e dunque le due classi di concorso delle gae delle gps andrebbero a confliggere e quindi non è possibile farlo cioè si non avrebbe neanche senso farlo perché vai in gae per quella classi concorso in gps per altre classi concorso che non sia la medesima dunque speriamo di essere stati chiari nelle nostre risposte a domande specifiche che sono state poste nei nostri telespettatori seguitici ancora nei nostri canali social perché sarà un periodo in cui tratteremo proprio il tema specifico delle gps dell'aggiornamento delle gps e del del anche della seconda tappa che ci sarà per le gps che prevederà la scelta delle preferenze di riferimento arrivederci a tutti e grazie a tutti